Anche il mondo dell'agricoltura bellunese risente della carenza di personale, braccia e mani forti che possano supportare in particolare le tante piccole e medie aziende della montagna nella propria attività quotidiana, dai mungitori e raccoglitori di frutta e ortaggi a chi porta il pascolo e gli animali, ma non solo. In quest'ottica i migranti, la cui presenza si è accentuata molto in questo periodo su tutto il contesto nazionale, potrebbero rappresentare, secondo Coldiretti, nuove opportunità. Sono sicuramente una risorsa perché ci sono molte attività anche nel settore agricolo che hanno difficoltà a trovare dei dipendenti, a trovare personale. Penso al settore degli agriturismi che molto spesso hanno difficoltà a trovare camerieri, ma anche cuochi, ma anche personale di sala, piuttosto che personale addetto alle pulizie. La stessa cosa vale anche per il settore dell'allevamento. Mancano sia i mungitori, ma anche proprio chi bada al bestiame molto spesso. Sicuramente serve una formazione, serve che queste persone possano almeno conoscere i principi della lingua italiana e possano capire e rapportarsi con i titolari. Siamo disponibili ovviamente anche eventualmente per la formazione di queste figure. L'occasione dunque per beneficiare di nuove professionalità, favorendo l'integrazione, per cercare di rallentare quella che è una problematica che si trascina ormai da tempo. È un tema che sentiamo proprio perché anche i nostri soci molto spesso manifestano le difficoltà nel trovare personale, quindi noi siamo comunque al loro fianco alla ricerca di eventuali figure da inserire.